Andiamo a pagina 35, perché sapete che c'è gente buona, c'è il popolo cattivo, brutto, infido, poi ci sono i buoni, gli illuminati, i filantropi, questi che ci vogliono aiutare, i ricchi che sono buoni per natura, e oggi il Corriere, grazie a Maria Silvia Sacchi, guardate che bella foto, che dice aiutare i più fragili per poter ripartire. Ci sono Armani e Del Vecchio, due Arzilli ragazzi, uno di 86 e uno di 85 anni, che hanno amore per il popolo. Non è vero, come dicono gli invidiosi, che il fatto che questi rappresentano proprio la parzionificazione della disuguaglianza, cioè che sono loro causa delle sofferenze dei più, perché rappresentano una genia di persone che vive bene, proprio nella misura in cui tanti stanno male. Non è vero, ecco, che magari utilizzano il loro potere economico per imporre una cornice legale di regole che fa stare i poveri sempre peggio, e l'oro invece sempre meglio, dopodiché una volta che hanno acquisito questo potere, si possono pure permettere di arredare l'anima, facendo finta di essere buoni, di amare la gente, insomma dentro un sistema diseguale, proprio perché esistono persone come loro. Ma non è vero questo, questo è complottismo e quindi Maria Silvia Sacchi ci dice che vogliono aiutare i più fragili. Ecco, d'altronde Del Vecchio si occupa di lenti, quindi di fragilità se ne intende. Dice mai come in questo momento, dice l'Italia, ha bisogno di fiducia. Giorgio Armani e Leonardo Del Vecchio sono insieme perché arrivi questo messaggio. Quindi abbiate fiducia, se prima non ce l'avevate adesso ve lo dice Armani e ve lo dice anche Del Vecchio, quindi come fate non è vero. I due imprenditori hanno annunciato una iniziativa con la comunità di Sant'Egidio. Ecco, a Milano sono accanto ai poveri, quindi magari in fila potete trovare anche Armani e Del Vecchio che chiedono in Viale Toscana un pasto caldo perché ci sono lì. Vogliono supportare le famiglie nel pagamento degli affitti e una formazione, ecco uno di formazione al lavoro con borse di studio. Quindi se non ce la fate a pagare gli affitti, mandatele tutte, trovate la sede legale di Luxottica e di Armani, mandatele lì, ve le paga tutti, insomma state tranquilli. La pandemia ha evidenziato con terribile velocità le fragilità cui sono esposti strati diffusi della popolazione, dice Armani. Ecco, soffre Armani senza apostrofo, cioè soffre, voce del verbo soffrire. Dice, ci sono bambini pure al cielo, esistono i paesi, si sono accorti i ricchi, che esistono anche i bambini, ecco, i poveri fanno figli. Questa è una notizia, perché dai bambini dipende il futuro, ecco, non sono banalità queste. E il rinnovamento del paese, insomma è un pezzo davvero profondo, è d'accordo del vecchio, che attinge all'esperienza dei propri figli. Dice, abbiamo molto da imparare dai giovani, ecco, anche nel modo in cui ci poniamo di fronte alle sfide per il futuro. Uscendo però dalla logica dello Stato assistenziale, possiamo dire che lo Stato siamo noi cittadini, non voi cittadini, siete voi milionari che mettete dei pupazzi ai vertici dello Stato per fare gli interessi dei milionari. Ecco, forse così si capisce meglio. Lo abbiamo fatto spontaneamente e prontamente, offrendo il supporto possibile alle nostre aree di competenza e iniziando donazioni per rinforzare i fondi statali dove necessario. Sulla stessa linea del vecchio, secondo il quale la pandemia ci ha ricordato che l'azienda vive con i suoi territori e con loro condivide benessere e salute. Ecco, mi viene in mente quella parabola evangelica dove si dice non sappia la mano destra e cosa fa la mano sinistra. Ecco, invece questi qua sbandierano quanto sono buoni, quanto amano i poveri e quindi insomma amateli perché loro vi amano e quindi cercate di amarli pure voi. Quindi lasciamo la Corriere della Sera perché oggi trasuda troppa bontà e quindi noi che siamo cattivi ci infastidiamo.